Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis. Oggi parliamo, mi sono deciso finalmente a fare questa puntata, parliamo di un setup basilare per Aristotele. Quindi cercheremo di creare tutte le formazioni possibili per avere un apparato, anche se volete, minimo in libreria delle opere di Aristotele, però in maniera tale da coprire una certa completezza e da poter anche affrontare lo studio. Quindi parleremo non solo di opere originali, di classici su Aristotele, ma parleremo proprio delle opere di critica e quali sono le migliori, insomma, quelle che io personalmente anche vi consiglio, sia che vogliate approfondire, fare uno studio approfondito su Aristotele, sia che vogliate fare uno studio un po' più generico. È ovvio che parlare delle opere di Aristotele richiederebbe ore e ore, affrontare tutti i discorsi sulle edizioni, magari in altre puntate, senza magari sicuramente ci torneremo, cercheremo di affrontare le singole opere, le migliori edizioni, eccetera. Oggi voglio proprio darvi la struttura base, quasi più concentrarmi sulle opere di critica, che per l'affrontare Aristotele sono opere fondamentali, che sulle opere in se stesse. Come al solito, io vi consiglio, anche se di questi tempi e con la crisi editoriale, di cui abbiamo già parlato in un altro episodio, vi consiglio sempre, per quanto riguarda Aristotele, vale un po' lo stesso discorso che ho fatto per Platone, quando ho affrontato il setup per Platone. Cioè, sarebbe meglio, se si riuscisse a trovare, prendere l'opera omnia e togliersi tutti i dubbi. È ovvio che, per avere un'opera omnia di questo tipo, composta da 11 volumi, se non sbaglio, adesso lo controllo proprio insieme a voi, per avere un'opera omnia di questo tipo, si va a spendere sicuramente più di 100 euro. Potremmo stare sui 10 euro a volume, trovando un buon affare, un buon acquisto, però sono soldi investiti benissimo. Tutte queste opere, la terza, nonostante magari le troviate, e sono le opere con questa copertina, nello specifico, che sull'usato avrete sicuramente trovato, sono ottime opere. Hanno una traduzione che a me personalmente non mi convince esageratamente, perché sono traduzioni molto filologicamente corrette, se vogliamo, però si seguono con un po' di fatica. E all'interno, proprio per mantenere la concisione, adesso le metto un attimo da parte, in maniera tale da farvi vedere anche all'interno, prendiamo a titolo di esempio, la metafisica, di cui oggi parleremo in maniera diffusa, all'interno abbiamo un modo di scrivere e una scrittura non propriamente e non troppo chiara. Quindi i periodi sono scritti molto ravvicinati tra di loro, con font molto piccoli, eccetera. Comunque, prendendo un cofanetto delle lezioni di Aristotele, si va veramente a risparmiare tanto, staremo sulle 10 euro a volume, non si incorre nel rischio di prendere volumi di qualità scadente, e si ha un ottimo strumento. La La Terza ha curato veramente questa opera in maniera veramente accurata. c'è anche un'edizione delle opere complete di Aristotele più giovane, magari vi metto qua la foto della copertina, io riesco semplicemente solo a trovarle, anche sul sito La Terza, sporadicamente, quindi non vendono mai il cofanetto completo, ma magari vendono le opere numero 6, opera numero 3, si fa tanta confusione, veramente tanta confusione. Ecco perché io vi consiglio, sempre cofanetto usato, magari spendiamo, facciamo un investimento un po' grosso all'inizio, ma veramente, ci togliamo veramente il pensiero, abbiamo tutte le opere, e questo è un grandissimo vantaggio, perché al giorno d'oggi, senza case editrici che facciano questo tipo di pubblicazioni sistematiche, se uno inizia a comprare le singole opere, impazzisce, e non ci si salta più fuori, e quindi ci si trova a rincorrere delle chimera a un certo punto, e per autori così importanti, una volta c'erano proprio queste opere, queste opere editoriali di opere complete, sistematiche, che erano diffuse, c'era anche un altro ambiente culturale di riferimento in Italia, ma si trovano ancora sull'usato, io penso che ci sia la possibilità di trovarle, e sia anche un ordine nella propria libreria, perché avere undici opere, che contengono tutta l'opera omnia di Aristotele, dà una certa chiarezza, dà una certa sistematicità, perché anche come sono organizzate le opere, sono organizzate innanzitutto a livello contenutistico, con un senso, con una logica, a volte in ordine cronologico, a volte in ordine contenutistico, insomma, è qualcosa che è stato pensato dall'inizio alla fine. Se iniziamo appunto a comprare singole opere, vale la stessa discorso per Platone, singoli dialoghi, eccetera, ci viene una confusione che rischiamo molto spesso, anche di andare magari inconsapevolmente, a comprare doppie opere, opere doppie, perché ad esempio è un attimo fare confusione tra la Costituzione degli Atenesi, tra la politica, tra la ritorica, tra la poetica, e basta, potremmo dire, una minima variazione nella traduzione del titolo, che, insomma, si vanno veramente a combinare dei disastri. Queste opere ci tutelano e, potremmo dire, se anche sono un investimento grosso, ci possono far davvero risparmiare col seno di poi tanti soldi. Detto ciò, sono opere molto compatte e quindi è meglio ed è bene affiancare per determinate opere dei testi, innanzitutto più chiari, più leggibili, spendendo qualcosa di più magari, però sono le opere di riferimento di Aristotele, quindi sono le opere che sicuramente andremo a consultare più dei frammenti o più della retorica e più della poetica. Ci sono opere principali e sono la metafisica, la fisica e l'organon. Adesso svegliamo subito l'arcano. Sono queste tre. Io vi faccio vedere la metafisica perché qua, in questa edizione della La Terza, innanzitutto, l'organon è trattato già molto bene, è anche un'ottima traduzione, eccetera, e corrisponde... L'organon cos'è? Sono le opere di logica di Aristotele, diciamolo per chi non lo sapesse. L'organon sono le opere di logica di Aristotele, sono solitamente in queste raccolte che troviamo sull'usato, sono le prime, perché le opere di logica solitamente si mettono per le prime, sono sei opere, sono sei opere in verità. Ognuno ha il suo titolo, adesso non stiamo qui ad elencarle, ma sono opere molto, molto importanti. L'organon che edizioni possiamo comprare? Beh, qualsiasi edizione con un buon testa a fronte, e solitamente Aristotele è difficile curarlo al giorno d'oggi in maniera sommaria, ormai c'è una tradizione filologica, filosofica importantissima, ogni opera con testa a fronte dell'organon va benissimo, penso ci sia un'edizione Bonpiani, deluxe, molto buona, sull'usato si possono trovare singole opere, non penso tutto l'organon, ma singole opere delle vecchie edizioni Loffredo, adesso io non so i prezzi, magari ve li metto qua sotto, queste sono le vecchie edizioni Loffredo di straordinaria, una fattura da volume di altri periodi proprio, a volume che non si possono acquistare e non si trovano proprio ormai più di questa, di questo pregio e secondo me, dopo andremo a vedere, però si possono portare a casa anche per prezzi, potremmo dire, prezzi abbastanza convenienti. E cosa vi consiglio di comprare, potremmo dire in formato testo a fronte, magari in un'edizione più deluxe, vi consiglio di comprare la metafisica, l'organon e la fisica. Queste tre opere io vi consiglio spassionatamente di comprare non solo, se avete l'occasione, un'edizione un po' più popolare e tascabile come questa, ma se doveste scegliere magari di non comprare la metafisica così, la metafisica in formato tascabile, ma di comprarla già in un formato deluxe, qua addirittura in due, suddivise in due volumi, curate da Giovanni Reale, oppure la potete trovare identica, stesso progetto editoriale, non cambia assolutamente nulla, anche nell'edizione Bonpiani in un unico volume, quindi questi due volumi sono contenuti qua dentro, a prezzi davvero buoni sull'usato. Ora, non saprei dirvi il prezzo di listino della metafisica di Bonpiani perché ho fatto anche un po' di polemica ultimamente, il prezzo Bonpiani sono tutti aumentati di molto, 6-7 euro a volume, io all'epoca presi questo volume al prezzo di 40 euro. Comunque, metafisica, edizioni anche l'offred usate, secondo me si possono trovare, sono ottime edizioni con capitello, adesso magari ve lo farò vedere più da vicino, con capitello, con rilegatura estremamente di pregio, con segnalibri in tela, insomma, delle opere straordinarie. E perché prendere queste con testa a fronte? Per chi volesse e sapesse capire il greco, è importante avere il testo a fronte soprattutto per la metafisica in cui le ambiguità lessicali di traduzione sono tante. E poi, soprattutto, anche se non conosceste il greco, avere il testo a fronte è sempre e fa sempre come punto di riferimento e ci può davvero aiutare, aiutare soprattutto quando andremo a leggere i testi critici in cui molti autori magari di un po' di anni fa non fanno riferimento a parole tradotte ma fanno direttamente riferimento a parole greche e quindi noi andando a recuperarle sul testa a fronte potremmo avere subito un corrispettivo e subito andare a vedere a cosa si sta riferendo il nostro critico di riferimento. Ora direi che possiamo passare ora che abbiamo visto un po' le opere e vi ho un po' consigliato comunque vi metto il link a tutti e adesso veramente bisognerebbe parlare per ore anche solo delle edizioni eccetera sto cercando di essere il più conciso possibile anche per darvi subito un'infarinatura quindi avere l'opera completa è per potremmo dire il filosofo di professione chiamiamolo così un'esigenza imprescindibile avere l'opera omnia di Aristotele si può comprare usata io questo è quello che vi consiglio perché non penso si trovino cofanetti dell'opera omnia di Aristotele adesso guarderò anche in giro ma sul nuovo non si trovano io penso oltre al cofanetto però è importante affiancare tre opere con testa fronte con edizioni magari un po' più di fattura un po' più deluxe spendendoci anche qualcosa magari comprandole anche nel tempo non è che l'investimento va fatto necessariamente immediatamente ma sono la metafisica di Giovanni Reale che ormai è un must in Italia la metafisica di Giovanni Reale guardate anche semplicemente su questa edizione il nome Giovanni Reale che è il curatore di quest'opera è scritto grande quanto il nome di Aristotele quindi potremmo dire ormai la metafisica di Giovanni Reale è un classico che commenta un altro classico questa è un po' la portata la fisica di Aristotele che non posso farvela vedere perché in questo caso predico bene ma razzono male nel senso che la fisica di Aristotele non l'ho ancora comprata in edizione separata ed è un po' la mia mancanza per quanto riguarda l'opera di Aristotele se no è anche la terza opera da prendere in formato deluxe è l'Organon che io ho e posseggo in vari volumi nell'edizione L'Offredo che è un'edizione di lusso che potrete secondo me trovare anche voi nell'edizione L'Offredo un po' di tempo fa ci avevo guardato e si trovavano ma che se no potete trovare nell'edizione Bonpiani che penso sia ancora in commercio se l'hanno riedita se non è terminata comunque vi metto qua un po' di link e dopo magari andate a vedere voi che cosa vi interessa di più per quanto riguarda la critica e cerchiamo qua di andare in chiusura del video i testi sono tantissimi c'è solo quelli che posseggo io sono innumerevoli non li ho letti tutti ma li ho sfogliati li ho guardati e sono un po' i grandi classici quello che vi consiglio io alla fine del video sarà quello un po' più divulgativo quello per chi cerca un approccio un po' più soft meno scientifico meno accademico ad Aristotele che è questo qua che adesso vi mostro William David Ross questo è un grande classico della letteratura su Aristotele opera che non so se si trova ristampata ma che vi consiglio perché è un'opera che non conta molte pagine quindi agevole sulle 270 pagine e vi illustra in maniera molto potremmo dire accademica quindi nulla di straordinario ma vi illustra sezione per sezione molto comodo tutti gli argomenti della filosofia aristotelica vi leggo giusto un po' un indice la vita e le opere capitolo 1 capitolo 2 la logica quindi l'organon la filosofia della natura la biologia la psicologia la metafisica l'etica la politica quindi è il più classico dei testi critici riguardanti Aristotele argomento per argomento su Aristotele William David Ross se volete invece qualcosa in casa italiana Enrico Berti profilo di Aristotele un testo che io ho sfogliato questo non ho letto non ho studiato comunque un buon manuale mi è parso di vedere che è veramente un buon manuale ricalca un po' già quello che abbiamo visto nel volume su David Ross però forse in maniera leggermente è un po' più dialogica quindi meno schematico meno accademico meno cadenzato però alla fine gli argomenti sono quello la teoria dell'argomentazione lo sviluppo della dialettica platonica quindi il rapporto con Platone la vita l'ambiente culturale le cause prime del divenire quindi tutto il discorso sulla metafisica e sulla fisica le cause prime dell'essere le condizioni della felicità individuale invece sono la parte più etica e politica quindi si parte dalla vita dal profilo biografico si passa la metafisica alla fisica e poi all'etica classico Berti è famosissimo accademico e divulgatore anche scrive dei grandi libri anche questo profilo di Aristotele sicuramente è un'opera a cui far riferimento classica ormai ve la consiglio sempre introduzione della La Terza di Giovanni Reale classico un po' profilo che abbiamo già visto nelle altre due testi critici ora vi cerco l'indice anche qui però si siamo sempre sulla stessa linea d'onda attenzione se comprate l'edizione dell'AX della metafisica di Giovanni Reale troverete dentro un testo un'introduzione di diverse centinaia di pagine adesso non mi ricordo neanche quante siano le centinaia di pagine ecco siamo sulle 250 pagine che è un'introduzione di fatto ad Aristotele fatta a Giovanni Reale se comprate questo non comprate assolutamente l'introduzione alla Terza perché sono praticamente la stessa cosa sono praticamente lo stesso testo qua dentro è già contenuta l'introduzione ad Aristotele che trovate sulla Terza questa è una cosa che ci tengo a dire perché se no andiamo a comprare due volte lo stesso volume l'introduzione della Terza di Giovanni Reale è molto buono anche nelle edizioni L'Offredo troveremo la stessa introduzione e vi metto qua ce l'ho lì ma vi metto potremmo dire la foto anche l'edizione vita e pensiero per chi ce l'avesse è un'edizione molto particolare che si trova veramente di rado ma anche la vita la edizione vita e pensiero è la stessa dell'edizione Bonpiani curata da Giovanni Reale quindi questo solo per chi non avesse un'edizione dell'AX della metafisica e qui vediamo anche un po' però la convenienza di comprare comunque un'opera di questo tipo che significa comprare due opere in una significa comprare sia la metafisica di Aristotele sia l'introduzione di Reale molto bene queste erano un po' le opere classiche le opere che troviamo un po' dappertutto che ci espongono Aristotele appunto secondo un ordine che è un po' sempre quello opere che ho trovato molto interessante che vi riconsiglio è sempre un'altra opera di Veggetti che a me piace tantissimo io questa volta lo troviamo ve l'avevo già consigliato per Platone diverse volte ha scritto un'opera meravigliosa 15 lezioni su Platone introduttive di ampio respiro anche qui troviamo incontro con Aristotele 15 lezioni anche questa volta Mario Veggetti e Francesco Ademollo questa volta non ha fatto tutto Veggetti quindi si è fatto aiutare da Ademollo che è uno studioso di Aristotele che scrive anche lui molto bene quindi senza ombra di dubbio due autori che hanno creato un'opera molto interessante opera che ricalca un po' il successo delle 15 lezioni su Platone e lo fa molto bene e mette in rilievo alcuni punti della filosofia aristotelica che solitamente sono lasciati nell'oscurità quali per eccellenza vediamo già ad esempio nel capitolo decimo il vivente e l'anima il capitolo nono il corpo del mondo e i suoi moti un'etica per l'animale politico vediamo che vengono la scienza indagata al primato della filosofia molto interessante anche le ultime due appendici sugli scritti esoterici e sulle cronologie delle opere di aristotele vediamo che in quest'opera più che un intento accademico scientifico speculativo di analisi c'è un lavoro complessivo di unire da un lato la praticità della nozione dell'informazione con una sorta di descrizione di tutto il contesto in cui aristotele si trova ad operare quindi non c'è semplicemente aristotele ma c'è aristotele insieme al contesto della grecia dell'epoca insieme a tutte le dinamiche politiche scientifiche filosofiche che hanno portato aristotele a scrivere e a fare quello che ha fatto quindi questa è la prima opera che io vi consiglio vivamente per chi volesse avere uno sguardo poi un'opera accessibile 270 pagine bella consistente ma comunque un'opera non di straordinaria di straordinaria difficoltà e altre due operette di Emanuele Severino grandissimo filosofo italiano mancato da un anno comunque da poco tempo che scrive due opere tra l'altro il principio di non contraddizione Emanuele Severino è stato riedito da poco dalla scuola e quindi è un'opera molto interessante comunque ha scritto questi due libricini di pochissime pagine siamo sulle 70 pagine per ogni libricino questo addirittura arriva il principio di non contraddizione arriva a 58 pagine ma sono due operette davvero davvero interessantissime scritte in maniera molto densa che fanno capire un po' il cuore della filosofia aristotelica che sono in questo i principi del divenire e in questo il principio di non contraddizione sono i fondamenti su cui si basa la logica aristotelica sicuramente questa è una spesa di poco conto ma che veramente vi può dare tanto nello studio di Aristotele è uno studio denso approfondito non nego che siano testi di una certa complessità ma sono testi che penetrano veramente a fondo nel cuore della filosofia aristotelica mi stavo mi stavo dimenticando ora mi accenno a consigliarvelo studio tra i migliori ma vedete anche lo spessore del tomo e la complessità di affrontare un'opera del genere Ingemar During autore di questo Aristotele pubblicato da Mursia è una senza altro una delle opere più complete per chi volesse davvero affrontare lo studio di Aristotele in ogni singolo particolare non ha che da far riferimento a quest'opera che io vi consiglio caldamente ma che è un'opera veramente che supera le 700 pagine ed è un'opera che si fa sentire ovviamente un'opera di questo tipo una volta che qualcuno ha finito di affrontare un'opera di questo tipo penso che non abbia più nessun problema riguardo allo studio al parlare anche in pubblico della questione aristotelica potrebbe veramente fare da divulgatore di Aristotele un'opera molto interessante per chi appunto si dedichi all'approfondimento di questo grandissimo filosofo Ingemar During io spero di avervi fatto una grande summa di che cosa prendere su cosa orientarvi e spero di essere stato utile segui Studio Noise se ti interessano questo tipo di contenuti noi intanto ci sentiamo in una prossima tavola rotonda intanto grazie mille grazie mille grazie mille